E' attivo già da ieri presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela il laboratorio di consulenza genetica coordinato dalla dottoressa Perrotta. Un servizio molto importante e atteso dalla città come spiega ai nostri microfoni il direttore Luciano Fiorella. Il via al presidio Vittorio Emanuele, l'ambulatorio di consulenza genetica che si svolgerà due volte alla settimana, sarà gestito dalla dottoressa Perrotta e arruolerà praticamente pazienti con patologie di tipo genetico e familiare. Siamo in attesa di ricevere definitivamente il laboratorio genetico cui rivolgerci per inviare eventuali esami che dovessero essere necessari per la soluzione e per quanto riguarda la diagnosi precisa. Novità anche per quanto riguarda lo screening al carcinoma e il reparto di ortopedia che per lavoro in corso subisce un trasferimento di piano all'interno dell'edificio. Anche il presidio di Gela si mette nell'ottica di rispondere alla cittadinanza e di attivare quell'integrazione famosa col territorio che ci consentirà di screenare le donne per l'eventuale diagnosi precoce di carcinoma, il cervico carcinoma. Sarà qua l'ambulatorio tutti i giorni dalle 8 alle 14 e inizierà dal 17 novembre. Fermo restando che anche gli altri screening oncologici, quello della mammella che è quello del colorretto, già sono praticamente in itinere. Per quanto attiene il trasferimento dell'ortopedia stiamo realizzando gli ultimi lavori e quindi l'ortopedia riprenderà la sede naturale che aveva a quarto piano dando possibilità così all'unità operativa di chirurgia di riapproparsi degli spazi e quindi avere una gestione più completa e una migliore organizzazione del reparto. Infine, novità assoluta per il nostro ospedale dovrebbe essere attivato il codice rosa per i soggetti delle fasce più deboli che hanno subito violenza. Per quanto riguarda il codice rosa invece è un'iniziativa che già a tempo addietro in qualche altra realtà è stata fatta. Anche qua già la stiamo iniziando a parlarne. Avremo a breve, abbiamo fatto una richiesta alla locale procura per incontrarci e vedere e firmare un protocollo d'intesa proprio per dare possibilità alle fasce più deboli, a quelle che subiscono violenza, di potersi appoggiare e essere eseguiti a uno staff qualificato. Grazie.